Quasi sempre le mappe reperibili online non possono essere personalizzate o utilizzate per scopi commerciali, perché protette dal copyright. Per questa ragione nel 2004 nasce OpenStreetMap, che presto diventa il più grande progetto di raccolta di dati geografici liberi. Giornalmente, centinaia di volontari sparsi in tutto il mondo aggiungono milioni di dati geografici al progetto OpenStreetMap. Non solo strade, aree amministrative o le principali conformazioni fisiche del territorio. Il progetto include anche dati molto più dettagliati, le curve di livello, gli edifici e i numeri civici, fino ai bagni pubblici o ai singoli alberi. Sono miliardi le informazioni inserite finora e il numero di volontari è in continua crescita. Nel sito è possibile visualizzare i dati principali in diverse modalità. Una visualizzazione standard, molto dettagliata. Un'altra che evidenzia le informazioni utili ai ciclisti. Un'altra ancora che dà risalto alla rete del trasporto pubblico. Una quarta con uno stile più pulito e con meno elementi. Ma OpenStreetMap va ben oltre il sito. Si tratta infatti di un'enorme banca dati, che può essere scaricata e utilizzata liberamente da chiunque e per qualsiasi scopo. L'unico vincolo richiesto è specificare da dove provengono i dati. Vediamo degli esempi. Pubbliche amministrazioni, aziende private, ricercatori o semplici appassionati. Chiunque può creare mappe di una specifica regione o di tutto il mondo e scegliere come visualizzare ogni singolo dettaglio. Le mappe così create possono essere liberamente stampate e distribuite. Ai dati di OpenStreetMap è possibile aggiungere ulteriori informazioni. Questa mappa, ad esempio, indica in tempo reale la posizione dei treni delle ferrovie olandesi. E allo stesso modo, molte società private usano mappe create con i dati di OpenStreetMap per segnare dove si trovano i propri utenti o i propri servizi, o per costruire infografiche personalizzate. Molti sono i siti che usano OpenStreetMap per il calcolo del percorso ideale da un luogo o a un altro, non solo in auto, ma anche in bicicletta o a piedi, o a cavallo. E non solo per computer. I servizi sono disponibili anche per smartphone, tablet o ricevitori GPS. Ma la disponibilità e la libertà dei dati non sono gli unici vantaggi di OpenStreetMap sui concorrenti proprietari. Spesso le mappe reperibili online si concentrano solo sui percorsi automobilistici. E alcune regioni non sono per niente coperte. A Nairobi, in Kenya, esiste una delle più grandi bidonville africane, Kibera. Prima del 2008, nessuno aveva un'idea chiara di quante persone ci vivessero e quali servizi fossero presenti. Con l'aiuto degli abitanti del quartiere, un gruppo di ricercatori ha avviato un progetto di mappatura fisica e sociodemografica. Grazie a questo lavoro, ora esiste una mappa di Kibera in continuo aggiornamento, che indica dove si trovano servizi utili come scuole, medici, farmacie, bagni e acqua potabile. Solo poche ore dopo il terribile terremoto che ha colpito Haiti nel gennaio del 2010, la comunità di OpenStreetMap ha utilizzato le fotografie satellitari del paese per mappare strade ed edifici prima e dopo il cataclisma. Più di 600 volontari hanno creato così la mappa di riferimento per le squadre di soccorso, le NGO, le Nazioni Unite e la Banca Mondiale, che potevano usare i dati di OpenStreetMap nei navigatori GPS. In queste situazioni, il coordinamento dei volontari è gestito dall'Humanitarian OpenStreetMap Team, che organizza i lavori, mantiene in contatto gli operatori sul campo e fornisce l'addestramento necessario. OpenStreetMap funziona come Wikipedia. Chiunque può partecipare e le sue modifiche sono subito visibili a tutti. Per iniziare a collaborare basta registrarsi, scegliere una specifica regione e premere sul tasto Modifica. Alcune società private, come ad esempio Microsoft, hanno concesso ad OpenStreetMap il permesso di ricalcare le loro fotografie satellitari. Con le linee si tracciano le strade, i percorsi degli autobus, le linee dell'alta tensione. Un'area può definire un edificio, una piazza, un bosco o una giurisdizione. I punti servono per indicare un luogo specifico, la fermata di un bus, un semaforo, una fontanella dell'acqua. Ma non sempre le foto satellitari sono sufficienti, ad esempio nel caso di uno stretto sentiero di montagna. All'ora dei volontari percorrono la via più volte registrando la loro posizione con un ricevitore GPS o uno smartphone. I dati raccolti vengono poi rivisti con software specifici e caricati nel database di OpenStreetMap. La possibilità di stampare delle mappe su cui prendere appunti, che verranno poi in seguito ricalcati digitalmente, ha reso questa attività molto più semplice e divertente. Nella maggior parte dei paesi, gli enti pubblici raccolgono direttamente o indirettamente molti dati geografici, che però spesso non sono utilizzabili liberamente, perché coperti da copyright. Ma perché un contribuente deve pagare ancora per ottenere dei dati raccolti anche con i suoi soldi? Negli Stati Uniti, per esempio, tutti i dati raccolti dagli enti pubblici governativi, compresi quelli geografici, sono per legge disponibili con una licenza di pubblico dominio. L'idea di fondo è che questi dati siano un bene comune e un tassello importante per la trasparenza della pubblica amministrazione. Inoltre, la disponibilità di dati geografici liberi può servire da incentivo per investimenti privati nello sviluppo di servizi o soluzioni tecnologiche inaspettate e particolarmente efficienti. Anche i francesi hanno legiferato nella stessa direzione. Addirittura in Francia sono stati liberati i dati catastali. La piena disponibilità di questi dati consente di avere un controllo esterno della loro qualità e l'incrocio dei dati da fonti diverse aumenta esponenzialmente le possibilità di analisi, di progettazione e di verifica. E sempre più paesi o amministrazioni locali dimostrano una maggiore apertura e intervengono a livello legislativo per liberare i propri dati, ma c'è ancora molto da fare. OpenStreetMap è un bene comune a disposizione di tutti. Vuoi darci una mano? Tieni aggiornata la mappa della tua zona. Fai conoscere ad altri il progetto. Aiutaci a convincere gli enti locali a liberare i loro dati. Ti aspettiamo! Grazie. 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 Grazie.